I bimbi erano sempre più delusi e queste continue uscite forzate con l'avanzare dell'inverno iniziarono a provocare malmori e seri malati. Inoltre, le spietate responsabili non avevano intenzione di spendere nessuna cifra per abiti nuovi o scarpe, perciò i bimbi avrebbero dovuto tenere i vecchi abiti consumati e le scarpe rocce, consumate dal lavoro. Per favore, signori, comprate i nostri fiammiferi. Per piacere, comprate, comprate i nostri fiammiferi. Siamo tranqui e doliti, aiutateci! Andate via, straccioli! Non vedete che abbiamo fretta! Via, via, bambini, abbiamo da fare! Sparite, pezzenti, rovinate il bel decoro cittadino. Le feste del Natale si avvicinavano. I negozi erano agghiendati a festa e le persone passavano liete a far compiere. Ma i bambini non riuscivano più a gioire per gli altri venti.